La Roma è un avversario che fa paura in questo momento, soprattutto per quello che ha mostrato nelle ultime gare, però voi all'andata l'avevate messa in difficoltà e venite da un periodo abbastanza favorevole con 5 successi consecutivi. E' naturale che per quanto riguarda il confronto sulla carta, ovviamente il pronostico è totalmente a fuori della Roma, anche per quello che ha dimostrato negli anni, non soltanto in questo campionato. Noi siamo venuti qua nella consapevolezza di incontrare un avversario forte, però anche cercare di giocarcela per come siamo abituati noi. Sì, è pure vero che l'andata ce la siamo giocati, cerchiamo sempre durante l'arco della settimana di mettere qualcosina in più. Quest'anno tra l'altro abbiamo fatto una scelta insieme, d'accordo con la società, di anticipare un po' i tempi di quello che si sarà l'anno prossimo, la riforma del campionato, abbassando un pochettino l'età. Pertanto il nostro viatico è questo, ovviamente la cosa più importante è quella di mettere sempre un tassello alla volta all'interno dei nostri allenamenti per la crescita di questi ragazzi. Stiamo crescendo, i risultati ci danno la prova anche di questo, che è normale, che sono ovviamente sempre la cosa migliore, perché ovviamente sono quelli che poi ti danno fiducia, ti fanno anche dare consapevolezza, autostima e pertanto cercheremo ovviamente di ampliare queste serie positive. Ecco, la Roma può essere l'esempio anche per le altre squadre di costruire giocatori pronti anche per la prima squadra. Da voi c'è Donnarumma che è rientrato dal Gubbio, è un giocatore 90, insomma è un giocatore che può dare qualcosa in più, probabilmente magari può essere poi pronto per la prima squadra. Sì, è stato anche a margi di qualche anno fa della prima squadra, l'anno scorso ha vinto un campionato in C1, quest'anno sono parecchi ragazzi che sono andati in C a giocare, stanno giocando anche sotto buoni profili. Ovviamente noi cerchiamo ogni anno di magari andare a qualcun altro, magari andando verso la serie B o qualcosa in più. È un processo che abbiamo iniziato sette anni fa con questa nuova società, sotto questo punto di vista diciamo che siamo abbastanza giovani al cospetto di società come la Roma, che ovviamente da un ventennio e forse anche più, che lavorano sotto certi profili. Anche i bacini sono diversi, ma noi siamo consapevoli e contentissimi che lo stiamo facendo, dove provano anche il nostro centro sportivo e tutto il resto. Piccoli passi, cerchiamo ogni giorno di aggiornarci e naturalmente di crescere anche noi. Grazie, allora Pulvirenti a voi. Grazie.